gentili telespettatori buona giornata sull'inchiesta l'inchiesta covid che si è conclusa che ha portato a 19 persone indagate tra cui l'ex presidente del consiglio conte e anche l'ex ministro della salute speranza si basa soprattutto sulla superconsulenza di crisanti ma l'atto di accusa nelle carte delle indagini della procura di bergamo è che le previsioni sono state ignorate perché drammatiche cosa vuol dire che viene scartato viene praticamente scartata l'ipotesi di mettere a conoscenza gli italiani delle previsioni fatte con modelli statistico matematici fatte da esperti anche di fama mondiale italiani perché quelle previsioni quelle statistiche erano drammatiche e poi dissero ai tempi ma sono solo previsioni sono solo statistiche può essere come non può essere quindi hanno sminuito quella che la scientificità della statistica dicendo ma vabbè loro dicono che ma vedremo in realtà che cosa succederà e pertanto l'atto di accusa nelle carte delle indagini della procura di bergamo parla di ritardi e omissioni nelle 83 pagine firmate dal microbiologo crisanti 5 coesiti 5 risposte che diventano degli atti di accusa nei confronti di tecnici esperti e politici una sul piano pandemico una sulla mancata zona rossa della val seriana una sui decessi dell'ospedale di alzano 83 pagine di andrea crisanti consulente della procura della repubblica di bergamo la sua suo resoconto la sua il suo dossier è centrale assolutamente nell'inchiesta appena chiusa per epidemia colposa da covid 19 ieri poi la procura ha aperto anche un fascicolo per la fuga di notizie dell'apertura di un fascicolo e prima della notifica agli interessati quindi i giornali pubblicano i nomi degli indagati prima che gli indagati ricevessero alcunché qui è il solito sistema italiano le fughe di notizie della procura qualcuno che canta a fronte di qualche 100 euro che gli daranno i giornali ecco pertanto tra gli altri ci sono come vi dicevo tra gli indagati Roberto Speranza, Giuseppe Conte, l'assessore alla Regione Lombardia dal welfare Giulio Gallera e il Presidente della Regione Lombardia Tilio Fontana mentre per Roberto Speranza e Giuseppe Conte gli atti sono stati trasmessi al Tribunale dei Ministri di Brescia e intanto possiamo aggiungere che adesso poi faremo un video soprattutto nel prossimo vi invito a seguirlo sul piano pandemico nella consulenza si parla anche del piano covid di Stefano Merler della fondazione Bruno Kessler che illustrò gli scenari con impatti devastanti con un indice di trasmissione di 2,6 e questa, vi ricordate, si è parlato molto in passato di questa relazione Kessler e indicò Bruno Kessler la zona rossa come misura per contenere il virus e nel caso di un indice di trasmissione uguale o superiore al 2 mostrò come il sistema sanitario italiano sarebbe stato totalmente impreparato la drammaticità delle previsioni indusse il comitato tecnico scientifico e il ministro Speranza a segretare il piano stesso quindi il piano covid di Stefano Merler della fondazione Bruno Kessler viene messo sotto segreto perché quello che diceva le previsioni erano troppo catastrofiche e allora era meglio non informare gli italiani ma già il 27 di febbraio l'indice di trasmissione era arrivato a 2 ad Alzano e Membro in Lombardia ma la zona rossa non scottò come indicava anche il piano di Stefano Merler chiusura di tutte le zone che superavano un certo indice di trasmissione Speranza firmò il decreto il decreto era già pronto su carta intestata ma Conte non lo firmò mai provocando poi le conseguenze che abbiamo visto in questi giorni che abbiamo visto già nel 2020 Crisanti attribuisce responsabilità a livello nazionale e regionale per tre motivi il primo Speranza, Brusaferro, Miozzo e Damario sapevano del piano Merler e delle previsioni così come Fontana, Gallera e Cagliazzo il secondo, già dal 27, sapevano dell'indice di trasmissione sopra il 2 in quelle zone il terzo, nonostante il livello del contagio per dieci giorni non vennero prese azioni più restrittive perché? Crisanti indica la risposta nelle parole di Conte quando nella riunione del 2 di marzo affermò che la zona rossa va utilizzata con parsimonia perché ha un costo sociale, politico e economico e dice queste considerazioni hanno prevalso sull'esigenza di proteggere gli operatori del sistema sanitario e i cittadini dalla definizione dalla diffusione del contagio su Alzano il nodo fu il mancato contenimento del virus dopo i primi due casi quindi le accuse sono ben precise circostanziate studiate per bene negli ultimi tre anni ma la mia impressione è che Conte e Speranza non pagheranno mai vedrete che questo processo non andrà da nessuna parte ho questa sensazione ma vedremo vedremo se la magistratura agirà in quale senso verso quale direzione io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti e grazie